buonasera o buongiorno insomma buon pomeriggio buono cioè a seconda di quando guardate questo video io non lo so ciao ciao a tutte e tutte chi sono io prima domanda giustissima e beh io sono Massimiliano Loizzi e se non sapete chi sono è un problema vostro molto grave perché sono qui bella domanda anche questa sono qui per lanciare un appello molto breve statemi a sentire lo so che la concentrazione sui soci e basta no è un appello molto breve e molto importante statemi a sentire un attimo la nostra storia inizio nella notte fra il 15 e il 16 dicembre del 1969 notte in cui un ferroviere anarchico dal nome giuseppe pinelli detto pino viene suicidato dalla finestra del quarto piano del palazzo della questura di milano attenzione attenzione tornate indietro se non avete sentito bene perché ho detto viene suicidato non ho detto si è suicidato no viene suicidato che un silogismo modo strano per dire una cosa una frase che vuol dire che non si è suicidato ma è stato ucciso innocente nei locali della questura di milano dove era stato condotto tre giorni prima per essere interrogato circa i fatti di piazza fontana la madre delle stradici del 12 dicembre del 69 nonostante la sua conclamata innocenza provata più e più volte nel corso degli anni sulla storia di giuseppe pinelli sulla sua vicenda sul suo amicidio ancora non si è fatta luce chiarezza e verità come non è stata fatta luce chiarezza e verità sui mandanti e sulla strage di piazza fontano su portella della ginestra piazza della loggia brescia bologna eccetera 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 che è un po una consuetudine italiana quella di non fare luce verità e chiarezza sui fatti strani ed è qui il motivo di questo mio appello l'archivio giuseppe pinelli insieme al centro studi libertari ha lanciato una campagna molto interessante un'iniziativa bellissima la costruzione di una public history che prende il nome di giuseppe pinelli una storia soltanto nostra una storia di tutti cosa stanno facendo questi folli matti sognatori questi compagni stanno raccogliendo tutto il materiale che riguarda la storia di pino oltre ad averlo raccolto in questi ultimi 50 anni stanno ancora cercando materiale da chiunque storie racconti ricordi foto giornale qualunque cosa che riguardi quella storia in modo tale da poter raccontare la storia di pino la sconvolgente tristissima storia di pinelli e attraverso di lui raccontare un po coi giorni la storia di piazza fontana la storia del nostro paese quindi è una storia soltanto nostra perché personale ed è di tutti e perché sono qui a raccontare questa cosa che è bellissima quindi andate sui siti se volete partecipate partecipate date il materiale ma sono qui a chiedere il vostro aiuto come perché c'è una raccolta fondi perché da soli non ce la possono fare c'è bisogno di soldi che di soldi comunque c'è bisogno di sempre inutile che fate clic donazione facilissimo andate sul link che ci sarà scritto qui in sovraimpressione se non c'è in sovraimpressione sarà soltanto un pilla che fa così con le manine oppure ci sarà un link abbinato a questo video mettete un cazzo di link abbinato a questo video andate lì link tec donazione e la fate e non dite che non avete i soldi perché ce li avete perché poi le cose ci sono cioè non se da un euro due cinque dieci c'è mille se volete mille vabbè cioè 5 mila date 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 perché da soli non possono farci un lavoro molto impegnativo e in virtù del fatto che tra un anno sarà il 2019 ricorrerà il cinquantesimo anniversario di piazza fontana e dell'omicidio di pinelli è importante che questa storia di tutti questo questa iniziativa venga portata a termine quindi aiutateci aiutiamoci aiutate perché come a dire licia pinelli la vedova di giuseppe pinelli l'unica forma di giustizia è la verità ed è questo che stanno cercando di fare portare a galla la verità portare a galla questa storia che nonostante sia straconosciuta da tutti pare che tutti se la siano dimenticata partecipate partecipate anche voi perché com'è be dire qualcuno prima di me la libertà e partecipazione la libertà non è star sopra un albero e nemmeno chiusi dentro un cesso voi direte perché si dentro un cesso a parte perché sono fatti miei ma perché è una metafora bellissima che mi è venuto in mente perché la verità è un po come la merda prima o poi viene su a galla grazie a tutti